Emma del Toro a Next Generation Fest, qual è il messaggio che vuoi lasciare ai giovani della Toscana? Sicuramente il messaggio che voglio trasmettere è quello di seguire sempre i propri sogni e di credere in quello che si ama fare perché si può raggiungere a tutti i costi. Tu sei una ballerina, quali sono le sfide più importanti che hai affrontato nella tua carriera, anche se sei giovanissima? Allora essendo una ballerina avrai sempre il giudizio di tutti quanti, però quelle costruttive, le critiche costruttive le dovrai sempre accettare, prenderle e farne un lavoro quindi per migliorare sempre. Il giudizio c'è sempre, ci sarà sempre quindi lo dovrai accettare e continuare comunque a credere in quello che fai. alle ragazze e ragazzi che sognano un futuro nella danza che consiglio ti senti di dare? Di essere costante negli allenamenti, di allenarsi sempre, di studiare tantissimo, fare più lezioni possibili e immaginabili e di continuare così perché una strada ci sarà sempre per tutti secondo me. Grazie a tutti.